è il diciottesimo minuto del primo tempo, il Napoli è passato in vantaggio, Napoli 1, Udinese 0, ha segnato IUNES, basket Milano-Venezia 1.57, fallo probabilmente c'era raddoppio del Napoli, Caglie con Napoli 2, Udinese 0 da parte del Napoli, è arrivato Fofana, ha mandato il pallone in profondità per vie centrali, per Lasagna il diagonale di Kevin Lasagna, anche lui oggi con la fascia da capitano alla panchina per la potenza, 2 a 2 tra Napoli e Udinese, siamo arrivati alla 3 a 2 per il Napoli, quando siamo arrivati al dodicesimo, sua azione da calcio d'angolo segna sempre lui Milano, al quindicesimo gol in con il Napoli che attacca Mertens, rete, gran gol di Mertens, rientra dal destro troppoile civile!